Sì, noi abbiamo rimandato il nostro documento per l'Italia che può crescere e che deve crescere, l'abbiamo mandato a tutti i saggi, stiamo incontrandone anche alcuni singolarmente, cercando di sottolineare quelli che per noi sono le urgenze. E' chiaro che per la realizzazione di un programma come quello che noi abbiamo presentato alle forze politiche alla fine di gennaio servirebbe un governo nella pienezza dei suoi poteri, che non è la situazione attuale e non sembra neanche essere quella che si può verificare nei prossimi giorni. Noi crediamo di aver fatto un lavoro nell'interesse del Paese che va nella direzione giusta e pensiamo che ottimale sarebbe la realizzazione di tutto quello che è contenuto nel nostro documento. Quali sono i documenti che è scelto? Sono quelli sui quali stiamo già battendo, è un documento piuttosto complesso, perché ricordate che è un documento che mobilita 318 miliardi di risorse nei cinque anni in cui si prevedeva la durata della legislatura, quindi è piuttosto complesso. Certo, i punti immediati che noi avevamo messo sul tavolo erano sicuramente il pagamento di 48 miliardi di debiti della pubblica amministrazione, un taglio al costo del lavoro ottenuto attraverso l'imponibile IRAP e altri suggerimenti che avevamo dato, una revisione rapida del titolo quinto della Costituzione per arrivare a una razionalizzazione di tante spese. Questi sono i punti forse più immediati da portare avanti. Grazie. Grazie a tutti.